147esimo episodio di Parola di Life Coach ed eccoci qui online, on air e anche in video per questo episodio. È ispirato a un video di YouTube che ho pubblicato qualche giorno fa, in realtà è quel video di YouTube, ma voglio offrirvelo anche in podcast perché so benissimo che molto spesso noi scegliamo i contenuti in base al tipo di formato, quindi alcuni prediligono l'audio, il podcast, altri prediligono il video YouTube, altri prediligono il video podcast, l'articolo sul blog. Ecco, i miei contenuti sono sempre creati in formati diversi per poter raggiungere un pubblico vasto, il pubblico più vasto possibile. E quello che tu puoi fare per aiutarmi è iscriverti, mettermi un mi piace, commentare questo podcast a seconda della piattaforma sulla quale lo stai ascoltando. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere, lanciamo la sigla, questo è Parola di Life Coach e io sono Carlo Loiudice. Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Loiudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore. Questo è un vero e proprio tutorial sulla comunicazione assertiva. Se non ne hai mai sentito parlare, beh, allora scoprirai che cos'è. Se sai già di che cosa si tratta, scoprirai come fare ad impadronirtene e soprattutto perché è così importante. La comunicazione assertiva la scoprirai e vedrai come applicarla in maniera pratica in ogni ambito. In poche parole, questo contenuto che stai per guardare è un vero e proprio tutorial, una vera e propria lezione, una sorta di workshop sulla comunicazione assertiva. Comunicazione assertiva. Che cos'è? La comunicazione assertiva è un tipo di comunicazione attraverso la quale tu puoi tranquillamente esprimere i tuoi pensieri, esprimere quello che stai provando in quel momento, quelli che sono i tuoi bisogni e quelli che sono i tuoi confini. Guarda, queste quattro cose, te le ripeto, sono fondamentali. I tuoi pensieri, le tue emozioni, i tuoi bisogni e quelli che sono i tuoi confini. Chiaramente, dichiarandole in un certo modo, come vedremo, ti impegni anche a rispettare i confini dell'altra persona. Quando parliamo di public speaking, non parliamo solamente di essere su un palco e parlare di fronte a una massa di persone, oppure di essere in un meeting o in una conferenza, dove comunque puoi applicare la comunicazione assertiva. Ma parliamo spesso di comunicazione faccia a faccia, la cosiddetta one-to-one communication. Immagina tutte le situazioni di lavoro, le situazioni di relazioni personali che giornalmente noi affrontiamo. Quante volte porti a casa la sofferenza di non aver avuto il coraggio di dire quello che volevi e dover subire continuamente l'aggressione da parte di un'altra persona o avere un atteggiamento tu stessa o tu stesso aggressivo nei confronti dell'altra persona. Perché facciamo questo? Perché abbiamo paura di ferire l'altro? Questa potrebbe essere una motivazione, cioè, mi spiego meglio, non ti dico quello che davvero voglio o che davvero penso perché ho paura di ferirti, oppure perché ho paura di perderti, ho paura di smettere di piacerti. Se sei una di queste persone che ha paura di perdere gli altri e che per questo si fa carico di una serie di sofferenze, cioè per non dire un no, è costretto o costretta poi a dire un no a se stesso o a se stessa, beh, allora sei nel video giusto perché adesso ti darò la chiave di volta per riequilibrare le tue relazioni. Quando parliamo di comunicazione assertiva parliamo di una comunicazione tra adulti, cioè tra due persone che comunicano in maniera molto chiara e molto matura, altrimenti c'è uno sbilanciamento. Avrai qualcuno che parla in maniera aggressiva e l'altro che subisce e che parla in maniera passiva. o viceversa, l'altro automaticamente comincerà a parlare in maniera passiva e farà in modo che l'altro comincia a parlare in maniera aggressiva. Questo perché? Perché anche nel triangolo delle relazioni, parliamo di triangolo perché qui abbiamo tre figure fondamentali che trovi anche nel cinema, nel teatro, nei racconti, c'è sempre un aggressore, c'è sempre una vittima e c'è un salvatore. Ecco, queste tre figure del triangolo relazionale non sono mai continuamente, non sono mai perfettamente distinte. Cioè, anche la vittima è un aggressore. Lo scoprirai dopo quando entreremo negli esempi pratici perché frase per frase ti mostrerò diverse situazioni in cui la vittima in realtà si sta trasformando in una sorta di aggressore e magari riconoscerai delle situazioni sicuramente che ti sono successe o che hai osservato. Quindi la comunicazione assertiva serve a dichiarare quello che penso, quello che sento, quelli che sono i miei bisogni e quelli che sono i miei confini e serve anche per creare un ambiente sano fatto di rispetto reciproco perché in un ambiente di lavoro, per esempio, immaginate la cucina di un ristorante o immaginate una start-up dove c'è qualcuno passivo e qualcuno aggressivo e questo ambiente diventa dopo un po' tossico. Invece una comunicazione sana, chiara aiuta a rendere l'ambiente sano. Serve anche ad esprimere i sentimenti all'interno di una coppia, per esempio ci può essere una persona che soffre ma che non riesce a trovare le parole giuste, la modalità per esprimere quelli che sono i suoi sentimenti e magari dà anche per scontato che gli altri o che l'altro, in questo caso l'altra persona, li comprenda. Noi diamo per scontato che gli altri ci capiscano. Non sempre è così. Serve nella gestione del conflitto. I conflitti sono fondamentali. I conflitti servono a portare a galla delle situazioni latenti di sofferenza, di odio che ci sono nelle relazioni e che poi sotto traccia vanno a creare nuovamente un ambiente tossico. Allora a volte è necessario sedersi e affrontare questa situazione come? Attraverso una sana comunicazione assertiva. Come ti dicevo, questo è un workshop. Questo ti sto regalando oggi, un vero e proprio workshop sulla comunicazione assertiva. Quindi ascolta con attenzione e ricordati di mettere un mi piace se ti piace a questo video e di iscriverti. Ancora un altro elemento fondamentale e te ne parlerò in un altro video è quello dell'ascolto attivo. Imparare ad ascoltare. Quando si parla in maniera assertiva bisogna dare spazio all'altro. Perché? Perché se pretendo il rispetto dei miei confini e il soddisfacimento dei miei bisogni beh, allora devo ascoltare quelli degli altri per poterli rispettare. È importante soprattutto in una fase di conflitto che per esempio ci si parli senza interrompersi. Cioè che si lasci all'altro tutto lo spazio necessario per potersi esprimere. Questo è fondamentale perché se iniziate o se iniziamo a scavalcarci o a metterci a parlare gli uni sugli altri dopo un po' avremo un'escalation cioè dopo un po' il conflitto diventerà una vera e propria guerra, una lite invece bisogna ascoltarsi. Questo è fondamentale. Altra cosa nell'assertività è l'autoaffermazione cioè significa, ripeto, affermare i propri bisogni i propri confini ma in maniera appropriata. Devo farlo utilizzando un certo tipo di linguaggio che vedremo tra pochissimo e che ci serve proprio per mettere in chiaro sul tavolo, nero su bianco quelli che sono poi appunto i nostri desideri e i nostri confini. Allora io ho creato cinque scenari per poter, diciamo, vedere quelli che sono i casi tipici di comunicazione aggressiva, passiva e poi assertiva. Quindi ti mostrerò nella prima frase quella che è la frase aggressiva nella seconda frase quella che è quella passiva e poi quella ideale cioè quella assertiva quella che serve ad avere questo tipo di comunicazione sana. Bene iniziamo con la prima scena che è quella di un ristorante immaginiamo una coppia che va al ristorante come magari usa a fare molto spesso va al pub va al ristorante magari una volta a settimana due volte a settimana tre insomma va al ristorante da diverso tempo ma c'è una delle due persone che non è soddisfatta di quelle che sono le scelte c'è una che è dominante una parte che è dominante in questa coppia che continua a decidere questo può accadere in un ristorante ma può accadere per tante situazioni all'interno di una coppia la scelta di una vacanza la scelta di dove passare il weekend ecco vedete che già adesso sono certo vi si stanno aprendo come dei pop up degli scenari che conoscete molto bene allora qual è la prima frase la frase aggressiva sei sempre tu a decidere hai sempre pessimi gusti uno impone all'altro dall'altra persona di non decidere fondamentalmente perché deve decidere lui perché l'altro è accusato accusa l'altro di avere dei pessimi gusti comunicazione passiva invece forse possiamo andare dove vuoi tu non mi dispiace molto ecco vedete che qui c'è una negazione non mi dispiace molto se hai visto i miei video sulla comunicazione sulla negazione saprai che il cervello non legge la negazione e se io ti dicessi in questo momento non pensare all'elefantino rosa che cosa succederebbe che tu non riesci a vedere nient'altro che l'elefantino rosa perché perché il tuo cervello non legge il non quindi non mi dispiace molto significa mi dispiace molto la frase è forse possiamo andare dove vuoi tu mi dispiace molto è quello che stai dicendo in realtà quale potrebbe essere tra queste due soluzioni sei sempre tu a decidere dei pessimi gusti oppure possiamo andare dove vuoi tu non mi dispiace molto la frase assertiva questa qui ultimamente ho notato che spesso scegliamo secondo i tuoi gusti possiamo cercare un compromesso vedete che in questo caso io dichiaro quello che io ho notato non sto dicendo che scegliamo secondo i tuoi gusti ho notato che spesso e quindi non sempre le parole sono ben dossate in questa frase scegliamo secondo i tuoi gusti ecco possiamo cercare un compromesso e non ti sto dicendo che da adesso in poi faremo come dico io ti sto dicendo che potremmo invece trovare un compromesso una settimana decidi tu una settimana decido io una volta decidi tu una volta decido io ecco questo è per esempio una frase di comunicazione assertiva ecco chiaramente adesso è molto suona tutto molto tecnico tu puoi dirle a parole tue a seconda dei contesti con il tuo linguaggio con la tua lingua con il tuo tono di voce tono voice come si dice in inglese ma tecnicamente la frase va composta così vediamo adesso uno scenario molto interessante che è quello del lavoro un progetto di lavoro quindi due o più parti in questo caso due stanno lavorando in team su un progetto di lavoro e uno aggressivamente dice sei inefficace il tuo lavoro è un completo fallimento per dirla meno tecnica sarebbe mamma mia ma sbagli tutto non ne combini una giusta non ne fai una giusta questa è una frase aggressiva perché? perché accusa l'altro ti libera da ogni responsabilità esposta la responsabilità sull'altro sei tu che sei inefficace sei inefficiente vada anche ad aggettivare l'altro sei inefficiente non stai facendo qualcosa che non porta al risultato ma sei inefficiente il tuo lavoro è un completo fallimento c'è un giudizio il giudizio è pesante l'altra persona andrà sicuramente in protezione o in aggressione frase passiva non voglio criticarti ancora una volta una negazione non voglio criticarti ma forse ci sono cose da migliorare c'è una prima negazione che il non che il cervello non legge non voglio criticarti significa voglio criticarti ma forse ci sono cose da migliorare ma è una frase il ma è un annulla tutto quello che c'è prima quindi sto dicendo che ci sono cose da migliorare e che ti sto criticando che quindi quello che è da migliorare è quello che tu stai facendo male frase assertiva ho notato alcune sfide nel progetto ho notato alcune possibilità vorrei discuterne per migliorare la nostra efficienza allora vedete come il focus si sposta non sulle persone ma sul progetto sull'oggetto in questione dopodiché propongo assertivamente di volerne discutere con te per migliorare la nostra quindi la nostra reciproca efficienza potrebbe essere che ne diresti se ci prendessimo una pausa e andassimo un po' a fare un piano un nuovo piano per aumentare l'efficienza del progetto potresti metterla ripeto in un linguaggio meno tecnico vediamo l'organizzazione di un evento altro grande classico scenario dove la comunicazione assertiva è necessaria due persone stanno organizzando un evento aggressivamente una dice sei incapace di organizzare hai rovinato tutto accusa tu parte il tu il dito puntato quando vediamo che qualcuno ci punta il dito ovviamente ci incazziamo passivo l'evento non è andato come speravo ma va bene non voglio dirla ma la sto dicendo sei felice no va bene diciamo che non sono triste dai sì dai va bene sì sto bene una persona felice dice sono felice sono felice di come è andato l'evento non sta lì a dire ma sì forse sai vedete come la vittima diventa in questo caso aggressiva carnefice comunque perché fa pesare crea il senso di colpa purtroppo molte volte accade anche tra genitori e figli assertivo abbiamo avuto una difficoltà in questa organizzazione abbiamo avuto difficoltà ma propongo una revisione per migliorare in futuro per esempio quindi sposto il focus dal passato al presente futuro il passato non lo posso riparare probabilmente l'evento l'abbiamo organizzato male ma possiamo far tesoro di quello che abbiamo fatto assertivamente e migliorare i prossimi eventi passiamo invece ai compiti familiari un grande classico le situazioni da liti in famiglia dove molto spesso non si usa affatto il linguaggio assertivo la situazione è questa una persona accusa l'altra di non svolgere le faccende di casa in una maniera aggressiva dice sei pigro o sei pigra non fai mai nulla in casa ecco ancora una volta vedete che sposta tutto sull'altro punto il dito e ovviamente l'altra persona si arrabbia se la prende a male frase passiva forse potresti aiutarmi di più ma va bene così dico e non dico lascio intendere quando non dico chiaramente si creano i malintesi e poi sappiamo come va a finire il gioco della vittima in questo caso che cosa invece posso dire in maniera assertiva ho notato un disavanzo nei compiti possiamo discutere come suddividerli equamente ecco ancora una volta chiaramente la frase adesso è scritta in maniera tecnica per il nostro esempio poi va pronunciata con le parole che normalmente si utilizzano all'interno della coppia potrei dire ho notato che c'è uno sbilanciamento ho notato che a volte qualcuno fa più dell'altro ecco perché non ne discutiamo insieme e non troviamo un modo per dividere i compiti equamente questa è anche una classica situazione tra coinquilini tra case condivise tipo le case degli studenti ma non solo ormai i coinquilini le persone condividono le case in molte situazioni io vivo a Berlino e molto spesso ci sono anche lavoratori adulti professionisti che condividono l'appartamento o potrebbe essere quello che succede per esempio in uno studio uno spazio di lavoro condiviso con altre persone questa è bella la gestione di una critica al lavoro ecco come si gestisce la critica al lavoro qualcuno ha mosso una critica ha espresso un feedback aggressivamente uno risponde le tue critiche sono inutili non hai mai nulla di positivo eh quindi ti sto dicendo praticamente che quello che mi dici è inutile e che continui a darmi critiche negative che potrebbe essere la realtà ma lo sto dicendo in una maniera aggressiva frase passiva forse potresti essere più gentile nelle critiche sto facendo del mio meglio ancora una volta sposto punto il dito sull'altro tu potresti essere più gentile non capisci che sto facendo del mio meglio frase assertiva vedete come suona meglio apprezzo il feedback ma vorrei che fosse costruttivo possiamo migliorare la comunicazione delle critiche apprezzo il feedback ma vorrei che fosse costruttivo do importanza a quello che dici mi piacerebbe che fosse costruttivo che ne pensi di migliorare la comunicazione delle critiche di feedback che ne pensi di lavorare un po' sul modo di darci feedback che ne pensi di creare una sorta di standard una modalità per darci dei feedback perché quello che dici è molto interessante e sono certo che sarà di supporto al nostro progetto ecco per dirla meglio di come l'ho scritta qui allora queste sono delle situazioni classiche sicuramente ce ne sono altre quindi se vuoi scrivile nei commenti ma per fare una sorta di adesso di recap di quello che abbiamo detto ricorda che è fondamentale nelle relazioni per avere delle relazioni sane esprimersi in maniera assertiva per poter comunicare quello che pensi quello che senti quelli che sono i tuoi bisogni e quelli che sono i tuoi confini cioè non accetto questo non voglio questo e ascoltare l'altra persona per poter poi rispettare anche quelle che sono le esigenze e i confini degli altri se sei giunto fino a questo punto del video allora ti chiedo di iscriverti mettere un mi piace se vuoi puoi anche andare su grazie e fare una piccola donazione per sostenere questo lavoro e questo canale visita il mio sito se vuoi saperne di più dove trovi anche una serie di articoli sul mio blog io sono Carlo Lo Iudice ci vediamo al prossimo video parola di Life Coach il podcast di Carlo Lo Iudice pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori per vivere una vita migliore per vivere una vita migliore per vivere una vita migliore grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori